Sì, io penso che aprire questo cofanetto sia un po' come aprire uno scrigno dove ci sono tanti gioielli, gioielli preziosi ma molto diversi l'uno dall'altro e sarà veramente una sorpresa per chi ascolta questo CD, principalmente nel sentire il CD e pensare che questa musica è frutto dell'opera di una donna e non di un uomo. Grazie a tutti.